ben tornati vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani il mattino di Cuglieb Basilicata vedete Bibi farebbe gelosire Hitler il massacro di Netanyahu nella stessa di casa condannato da Erdogan 35 mila gli innocenti sterminati in otto mesi blinca in più civili che terroristi l'Egitto e la Libia affiancheranno il Sudafrica nell'accusa di geniocidio dei palestinesi presentata all'aria contro Israele la guerra e rompe Eurovision il papocchio dei voti per la contestata israeliana Golan sfavorisce però la lucana Angelina Mango che ha fatto però appunto un'importante esibizione all'Eurovision e poi ancora vedete si parla di Alan Mirren Save the Olives la sua missione la battaglia dell'attrice inglese in Puglia il premio Oscar per The Queen madrina di una serie di eventi per salvare gli olivi dall'axilella 21 milioni già quelli uccisi 37 milioni a rischio di essiccamento così il mattino di Puglia e Basilicata